Il dottor Davide Bisogno vi aspetta in via Starza 27 a Cava di Tirreni. Comunicato dalla Lega Pro il calendario dei primi impegni di campionato della Cavese. Quindi ai tifosi, oltre che alla squadra, spetta il compito di segnarsi queste date. Il debutto nella Serie C, girone C, della squadra allenata da Raffaele Di Napoli, avviene a Benevento, allo stadio di Via Santa Colomba, intitolato a Ciro Vigorito, lunedì 26 agosto alle ore 20.45, quindi posticipo serale per gli Aquilotti e per i Sanniti. Di lunedì, ma il 2 di settembre, sarà disputata Cavese Crotone alle 20.45, quindi altro posticipo serale per gli Aquilotti contro i Pitagorici allenati dall'ex Longo. Domenica 8 settembre il derby allo stadio De Cristofaro di Giuliano per la Cavese, anche quello alle 20.45 e al medesimo orario, ma nella data di domenica 15 settembre, ci sarà Cavese Avellino al Simonetta Lamberti. Sabato 21 settembre alle 20.45 Cavese Monopoli, la seconda gara interna consecutiva dei Biancoblu, che poi andranno martedì 24 a far visita all'Altamura, verosimilmente a Bari. Domenica 29 settembre alle 18.30 invece gli Aquilotti torneranno a Cava per affrontare il Latina. In questa fase iniziale del campionato, dunque, sono di più le gare da disputare in notturna. Ci sono le condizioni sportive per poterlo fare, visto che in quel periodo le temperature sono ancora sopportabili.